Se riusciamo a far durare la partita un pochino potremmo vedere delle bellissime ulti Va bene, pronostico in chat ragazzi, votate e fatemi sapere qual è il champion più sexy di League of Legends Ovviamente è Evelynn, Ahri fa schifo al cazzo Va bene Non ci sono i mini a quello che vuole grabbarci Eh, guardate un po' un'altra cosa ragazzi Se voi fate il punto sclamativo riscatta e vocale, si sente il vocale Provate un po' a vedere Guarda Onix, pare che mi arrabbio se si sente Molto bene Oh, visto? Che strano Mamma mia Va bene Ok, dai Zoe non può piacere, fa schifo Vai, vai, andiamo, andiamo, maschiamo sta gente Buono Un alleato è stato ucciso Jin support Eh sì ragazzi, cos'è? Non si possono giocare due di Carey Botlin Hanno creato Senna support Che l'ha deciso Eh sì, però non spaventarla Se tu stai là davanti Noi non facciamo niente Perché tu la lasciare stare sotto torre Il fatto è che Dovemo sfruttare Cioè, dopo Tu lo fai subito dall'inizio della partita Gli crei l'ansia da prestazione E dopo lei starà sotto anche quando potrebbe venire avanti Quindi tu mettiti nei basci Aspetta che vengano avanti Sennò non è inutile che prezzo Ok Perché noi non dobbiamo Vincere a lane E impedirele di farmare Noi dobbiamo solo killarli Chi se ne potte se farmano Tanto siamo in bronzo Quindi Dobbiamo giocare così No, Xayah è troppo vestita Mi spiace ragazzi Mi fate dire che è bella Non la vedete neanche Bene, va bene Dov'è Blitzcrank? Non vuoi grabbarmi Blitzcrank Sì Gravami tutta Bravo Peccato, peccato Era quello che volevo Very nice Molto bene Trappolina Vediamo se la vede Mi grabba muovi probabilmente Però Lo accetto Accetto La morte La fine Niente Non Ha Flasciato Va bene Altra trappolina Direi basta I'm back Molto bene Molto bene Molto bene Quasi Dai lo prendo? Quasi Va bene dai Ti salvi in teoria E ti fai anche gin Jinx Bene Non te la fai Beh Scusami Ma che cazzo fanno? Così No E ne vai Ma che cazzo Mi hanno lasciato in vita Perché? Vabbè ma sono impazziti ragazzi Ma ci lasciano in vita così Ma grazie Va bene Così Ha detto no Non ti cedo più Va bene Grazie mille Ok Pensavano avessi flashato Doveva flashare Ah ok Pregati così facile Va bene Non è che ho flashato Ho camminato Quello è fatto Adesso la teniamo Qui La teniamo bella pushata per loro Quindi Teniamo una wave qui avanti E vediamo come va Vediamo se vengono un po' loro avanti Oh bene Fiora sta perdendo top Sono contento Sono compiaciuto Così dovrebbe andare bene Non è anche un po' io In caso No no Non serve Il carretto Il carretto Ci pensa lui Guardalo lì Niente Jinx non si farma Jinx ormai Ciao Saluti Jinx rimasta in base Vabbè Vabbè Dove si sparita Niente Ah Beh Questo non me l'aspettavo Buono Senti bravi Va bene Va bene Senti furbetti No no Hanno fatto qualcosa di meglio Qualcosa di creativo Non me l'aspettavo ragazzi Ormai stavo dormendo io A farmare i minion Perché cioè Che fanno questi Jinx col conqueror Va bene Ci hanno pregato Ma si ma si Non è un problema Siamo avanti di Tipo il doppio dei minion Quindi Voglio proprio vedere Come la recuperano Ah Non ci pregano due volte Allora l'unico problema Di là potrebbe essere Garen Perché ovviamente Garen E tanka E comunque adesso Garen la pushiamo noi Visto che sono andati back Non ci pregano due volte No Ah buongiorno ragazzi Dai dai Dio santo Via Sparisci Hanno una bella combo Con tutte le trappoline Vai 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 Che ti fa anche lui No Muore no Muore si Bravo Ottimo cecchino La botta è cecchina Sono niterato Attenzione che hanno fatto il drago Non l'herald Ok Bene bene Aspettiamo Per la draktor Molto bene Ho visto su insta Che hai dato le skin ai vincitori Ma le mie Non sono arrivate Cavallo Però fatti due domande Cioè Ragazzi Insomma Ma oggi mi volete far tiltare Proprio Ma oggi mi volete incazzato Mamma mia Ragazzi Ma che cazzo Beh Devi aspettare almeno un giorno Quando Ma hai letto il messaggio Che ti ho scritto su insta Dove hai detto Ah questo è il mio nick Vorrei questo Hai detto ok Accetti Dopo 24 ore ti arrivano Sono passate 24 ore Il torneo È iniziato ieri Alle 21 Non sono nemmeno alle 21 Quindi Pensa te Quanto devi aspettare ancora Domani arrivano Ragazzi Non posso farci niente Fosse per me Io Voi mi accettate la richiesta di amicizia Vi invio subito le skin Ok Purtroppo Riot Games Ha dei sistemi del cazzo E bisogna aspettare 24 ore Dopo che hai accettato l'amicizia con una persona Per inviargli i regali Non ha senso questa regola È davvero insensata Però Esiste purtroppo E quindi vi tocca aspettare No Allora Quelle cose che vedi Io raga Adesso Comunque Non mi ripeterò Più oltre Per il futuro Perché cioè Ne vale anche delle mie salute Dove ripetere sempre queste cose D'ora in poi Io Tipo una volta al giorno Anzi no Una volta ogni tre giorni Guarderò chi posso regalare le skin Chi ha accettato Non posso stare lì Ah questo ha accettato adesso Quindi tra 24 ore Mi metto quest'altro accettato adesso Quindi tra 24 ore No Quindi Saranno cazzi miei Quando vi arrivano Vi arrivano D'ora in poi sarà sempre così Perché se sto dietro a voi Che siete tantissimi Non posso stare dietro a tutti ragazzi C'è una persona che ancora Non mi ha accettato la richiesta amicizia E io l'ho inviata ieri sera Magari adesso me l'ha accettata Però io non so a che ora l'ha accettata E quindi cazzi suoi Se poi domani viene a dirmi Eh ma non mi è ancora arrivata la skin Sono cazzi suoi Capito Quindi domani Se qualcuno mi è Vabbè Vabbè ti hai capito Va bene Io pusherei la bot Chi se ne fotte Free plate Purtroppo così La cerco flame Quindi è normale Che ti vogliono Ma no Un conto è Cercare di farmi tirare Un conto è Flammare Beh va bene Bene Oggi La live del cerco flame E davvero sono arrivati tutti Non mi tiltare Non apposta Poverini però Sembra quasi che Il titolo della live Abbia tirato qui Bene Oggi non so Sono poco paziente Sarà che ieri Ci siamo stancati molto Io ti consiglio Di loggare ogni due O tre giorni E pensare alle skin Da inviare Esatto Io quello che voglio fare È fare Loggerò una volta ogni tre giorni E vedo a chi posso regalare le skin Chi non c'è Ho perso l'occasione E aspetterò tre giorni dopo Tanto non è che le skin Spariscono Cioè rimangono lì ragazzi Quindi comunque Sia state tranquilli Prima o poi vi arrivano Se avete vinto qualcosa Faccio sempre le storie su Instagram Quando invio le skin Quindi lo sapete Ciao zigrash Dove devi saltarla? No Ora si No Mi sa toco il colpo Se l'avessi presa Era morto Era più morto È il dentro eh Ok l'ho mi sa toco un po' Però adesso Ok Ok Un po' di lavoro Dover fare qua Cazzo E l'ha presa No Fanculo fiore Bene Va bene No Non serve Non serve Azz Buono 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 Cinque secondi alla ulti Buono 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 Tre secondi alla ulti Eh non so se si vedesse Buono buono Oh c'è Mastery dietro Gambe No no vabbè Ammazziamo scusa Prendendo più Forse lo riesco a uccidere Oh mamma Questa è una botta di cecchinate Ragazzi C'è proprio una Una guerra di cecchinate Una guerra di cecchinate Vabbè Aspetto 40 gold in base Sono tanti Ma voglio il manamune Deve imparare ad essere pazienti ragazzi Esatto Jolly Io Oggi non sono molto paziente Quindi dovrete avere pazienza voi Per una volta Dai ragazzi Per una volta Per una volta Colpa della riot Ovviamente Va bene Andiamo Mi dici un po' di flame Va bene Adesso andiamo a spaccare Questa Jinx E vede come la flammo E sarà tutto dedicato a te Jinx 4-2 Ma come ha fatto A farsi kill Ah lo stesso tu scorre Il kraken Che schifo Va bene Va bene Come se avessimo dei tank Da tirare giù È necessario Adesso non ho le scarpe Questa cosa si sente un po' Troppo Però sono una macchina da guerra Bene va bene Dopo quel blitzkank rovina Un po' le cose Un po' tancosino Oh ci sono Ci sono Vabbè Peccato Sento di robinarci Le cose belle Proprio non sto facendo Un cazzo di kill Ho 3-7 assist Di nuovo In sta partita pure Mamma mia Va bene Molto 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 male Sto gantelle Sto scammando un po' Io di kill Ciao Scrocone Ti sei stata regalata la sub Beh beh Da sto nick Scrocata per bene Mi sta rubando Un po' troppe kill Stasera E niente oggi Voglio farti arrabbiare Anch'io oggi Oggi mi volete Parti tutti arrabbiare Ragazzi Oggi è così Oggi va di rabbia Ciao Exana Buonasera Allora Forse possiamo farle Un paio di kill Cazzo per un millimetro Ok Ok oltre questa Buono Non potevano nulla Buono 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 Stavolta Mi sono assicurato Di non ucciderla Pazzo Addirittura così Cattivo Ma va bene Un po' aggressivo L'unico Che da ability Ace è questo Andiamo Non ho scordato Che posso usare Le emot Eh Alcamaster Fino adesso Ragazzi Cugino Urf Cugino Love Cugino Scam Cugino Porca Cugino Cugino Buonasera Underpowered Buonasera Claudio Va bene Vai vai Ci sono Il team 14 Drago Vai Drago Che ci fa fare Vi danno Chi è qua Ma che cazzo Ma perché vedo Dei nemici Esplodere E basta Molto bene È stata bella Proprio Gli abbiamo sparato Insieme Ok Dopo Piacecchinata Ragazzi Mi hanno fatto Puff Bene Va bene Sniperato Oh Anche lei E anche lui Vuole Anche lui Vuole Benissimo Muoio No Allora posso Rimanere qua Se mi metto Un po' più avanti L'ulti di Jinx Esatto Bravo Molto bene Di nuovo Di nuovo Puff Due volte Esplosa Con l'ulti Qual è l'ulti Che check-in Meglio Meglio E Jinx Vediamo se arriva Mastery No Mastery è andato Bot Va bene Mastery è bot Mastery è giusto Due colpetti E me ne vado Anche io adesso Ah cazzo 70 gold Va bene Andiamo qua Ciao Alessio Dopo la festa Di compleanno Hai visto Oggi compiuto Gli anni Bravo E' bene Compiere gli anni Di oggi Sono da cugino Ma era davvero Il tuo compleanno Alessio In serio Che bellezza Come? Ma come si? Willy l'orbo? Ma lo sapevi tu? Ma com'è possibile? A quanto pare Anni tanto ci si becca Oh E' scoppiato Oh Ciao Ciao Va bene Ha flashato Troia Ma Ah Va bene La piattina ha fatto Prendere la Trappolina al volo Sì L'ho piazzata lì apposta Perché sapevo che Akali avrebbe preso La piantina E quindi ho detto Secondo me finisce qua Mastery infatti E' finito lì Però ragazzi Non flexiamo troppo qua Siamo umili noi Vado a cucinare Dopo buon game Ciao Never a joy Dopo buona cucina Cosa cucini? Di bello Io stasera mi sa che mangio la pasta Perché non ho la carne in freezer Non ho più le birbe Non ho più il carapaccio Non ho più le cotolette Non ho più un cazzo È finito tutto Eh sì Non ho fatto la spesa Però posso stare Oh mangio le gocciole Mmm Latte e biscotti Oppure l'uovo di pasqua Oppure consigli dalla chat C'è qualche ragazza Che sa cucinare qualcosa di speciale? Vengo a mangiarla da voi Se mi volete Ok Anche ragazzo Eh ovviamente A me i metri polini Gli stanno andando molto passi Da questi Dio mille segnali Non capisco un cazzo No questo fight è molto bello Perché non farò neanche una kill Anzi muoio Vabbè Cosa fate fa cattò cagare al cazzo Vabbè Erano tutti troppo distanti Ok La mastery Gliel'abbiamo regalata Alla tripla Perché Dovevamo fare Fargli fare un gold reset Salva 0-8 Ci faceva un po' pietà A meno così dovrebbe andare meglio Oddio In realtà potrei fare questo Mi da 20 Ability haste Qualcosa altra Che da Ability haste Tanto questo Solo Vediamo Non fai cagare te Eh lo so Exana Purtroppo Stato in fight Ha fatto un po' schifo Grazie del flame Tesoro Ecco Bannatelo Ovviamente Non ti preoccupare So benissimo Che io oggi Sto giocando male Per il nervoso Di prima Purtroppo C'era sa Però va bene Dai ci sta anche Non essere sempre al top Giustamente Va bene Va bene Poi specialmente È difficile Fare kill Ed essere forti Quando tutto il tuo team Sta già carriando Come fai Come fai a fare più kill Di kartus Fiora ha fatto Tripla 1v3 Capito Cioè Questa è una cosa Che purtroppo Non si sono allineate Le stelle Come al solito Nelle mie partiglie C'è sempre gente Che carri Vabbè Ciao Poi ho avuto addosso Garen Che mi ha fatto Silence ulti Quindi Non è che era partito Benissimo il team fight Per me ragazzi Non avete Analizzato bene le cose Buonasera foche Buonasera gattaro Buonasera Cosa Non si fa ma cucina Anche se fa 014 Bene Bravo Alessio Bravo Bravo cazzo Tanti auguri di complano Abbiamo girato la ruota per 3 Poi Ma sai Per quel tuo complano Fai questi Pazzita Madonna Di nuovo Raga Di nuovo Flash Q Garen La famosa meccanica Dell'outplay Basta Solo quella Sai fa Sempre su di me Deve fare il Flash Q Ce l'ha morto con te Mamma mia Mamma mia Poi dopo non ce l'ha Di meno non ho flammato So che non hai flammato Exxana Infatti nessuno ce l'ha con te Snapperato Si scherza Exxana Siamo qui per ride Non ti hanno mica detto niente di male Ti hanno solo riscattato il ban Così Per ridere ovviamente Non ci se la si prende per questo Le Garen piacciono Piacciono Le Sherif Ah si si Va bene Ah Mi compro questo Va bene Mi hanno timeoutata Exxana Mi hanno timeoutata Per scherzare Dai non ti preoccupare Ho detto quella cosa Lo so vabbè Perché loro mi difendono sempre Magari eri un hater cattivo Che mi voleva Insultare Giustamente Nonostante il titolo Cerco Flame La mia community Vuole prevenire Sono carini Sono dolci Cugini Però lo so che non eri offensiva Cioè nel senso Non è che hai detto Ah fai cagare te Hai detto il contrario Quindi va bene Sono io che la prendo più a drama Per fare scena Così aumentano le view La gente dice Oh mio dio ma qua si flamma Andiamo subito a vedere Capito Questa tattica Però non sono offeso Non ti preoccupare Exxana Mi fa piacere Anzi se mi dici Che cosa fai da mangiare Stasera Io sono contento Arrivederci Cugino Ci vediamo domani Va bene Alessio Grazie mille Alessio Di aver creato Un po' di flame Qui in chat Sono molto dolce Tanto Oh ma avete solo il flash Per quando Dovete faietare con me Con i miei compagni Infatti ci fate schifo Perché? Bene bene Muore Muore Non muore Non muore Anzi sta arrivando Karin Zitta te Blitz ti vuole Blitz mi vuole Si Però so che non ha il flash Ahia blitz Come sta andando C'è una persona dietro Però sai cosa ti dico Che io do la kill a blitz Ah Gol 3 set Su blitzcrank Signori Mamma mia Vabbè È fatta Perfetto Che si flamma di bel zoo Oggi No Non si flamma nessuno Ciao Qui lontano In grata Ciao Buonasera Buonasera Carissimo Devo fare 5 kill Dicono in chat Va bene Le faremo ragazzi Non vi preoccupate Allora Velocità abilità Cosa posso comprare Nel scuro fa schifo Vero Sì Una patta Allora ci proviamo Gaspis dovrebbero non farsi invitare Poi hanno pure intenzione di presentarsi Non ti preoccupare Comunque Xana Spero che tu non te la sia presa Invece Per quello che abbiamo fatto Per il ban che ti è arrivato Per Per Insomma Con le cagate lì Kuggy Ora ti faccio stare da blitz Ciao flaming Chi sei? Perché mi devi fare stare da blitz? Scusa Va bene Va bene Proprio stasera Che stacco Mezz'ora prima Cioè io tra mezz'ora stacco Va bene ragazzi Ma volete voi Time to look Vai È forte Kartus Kartus Ulta Con questa roba E via Il game Sta durando Vabbè ma codice Questa cosa Penso che Che sia ovvio Che Oddio Non ce l'hanno fatta Fammi tirare un altro attacco Cazzo Jinx di merda No chi cazzo è stato Vabbè peccato Ma va non me la sono presa Però ecco se fosse stato Veramente per il fatto Che pensavo che fosse un flame Allora me la sarei presa Ok no vabbè Ovviamente no Tranquillo Meglio ribadirlo Non si sa mai Codice Tanto lo sai Come stacca Brizza Brizza stacca E chiede sempre Chi raidiamo No quindi Non è un altro Che magari non conosciamo Che la gente va a dire Oh sta questo Oh sta questo Penso che sia ovvio Ok Ok Non ti preoccupare Flaming Non ti preoccupare Sei molto carino Però secondo me È meglio se lo fai fare Un'altra sera Perché oggi Oggi Stacco prima Io tra mezz'ora stacco Di solito faccio Più nelle 22 Quindi ovviamente È meglio se Se facciamo un'altra serata Secondo me Che ne pensi Flaming Secondo me domani sera Sarebbe meglio Per esempio O domani Siamo Siamo a 30 ragazzi Siamo a 30 Finito No è giusto per dire Perché poi oggi Sono stati un sacco Di problemi Mi testclici Sono leggermente tiltato No vabbè dai In realtà va bene Qualsiasi giorno Però se Se mi voglio stare da Brizza Allora io resto di più Ovviamente per Per cosa Però non è necessario Secondo me Non Non adesso Ecco Il calone è il main Di uno dei Poi il famoso Calone da Cillet Ok Il calone è la faccia Che tanto È fatta Bene Nice Mezzo per Donani Va bene Flaming Non ti preoccupare Allora domani Vedremo di portare Dei contenuti All'altezza Io direi Abbiamo fatto una bella partita Possiamo farne un'ultima Secondo me L'ultima partita di oggi Facciamo Lux Xerat Ok In risultato di morare Organizziamo una seconda Operazione Raid Allora Vabbè vabbè Ma raga ma oggi Si è visto prima che Ma anche adesso Magari si sente Che non sono Super Super al top Quindi Vabbè dai Perché Boh Tutto questo scam Della Riot Tutte queste cose Una dietro l'altra E poi Vabbè Gente che diceva cose Vabbè Mi ha un po' triggerato